Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone. Ultimi due giorni per la promo League Pass. In descrizione trovate il link per l'offerta, 17,99. Scadrà il 30 di aprile, quindi avete ancora due giorni, se volete, con 17,99. Tutto il pacchetto NBA fino al draft compreso, quindi tutti i playoff, le finals, contenuti storici, una figata. Detto questo ragazzi, due partite nella notte, direi di partire con il commento. Bye! Eccoci qua ragazzi, due partite nella notte 2 e due serie chiuse 2. Finalmente abbiamo il primo accoppiamento per quanto riguarda le semifinali di conference, sarà Milwaukee Bucks contro Boston Celtics e sarà una bella serie. Sarà una bella serie per quello che si è visto fino adesso, non ho grandi dubbi a riguardo, anche se dovessi scegliere tra le due, sceglierei quelli bianco e verdi. Bella questa gag, bellissima questa gag. No ragazzi, ho fatto questa gag semplicemente perché così io ho il mio parere, l'ho detto, ma non potete dire che porto sfiga. Quindi questa era per chiudere. Comunque, Celtics contro i Milwaukee Bucks, che nella notte hanno battuto i Chicago Bulls, piuttosto nettamente. Mancava Zach Lavin, mancava Alex Caruso, Chicago Bulls che sono scesi in campo proprio per perdere alla fine, perché se DeRozan, che è il tuo ago della bilancia, il giocatore che prende più tiri all'interno della tua squadra, finisce la partita prendendosi 10-11 tiri forse al massimo, ecco, vuol dire che sì, sono entrati in campo in quel di Milwaukee, sapendo che sarebbe stata l'ultima partita. Che voto dare alla stagione dei Chicago Bulls? Eh, qua sono abbastanza combattuto, perché la stagione dei Chicago Bulls è sufficiente per convincere Zach Lavin, che sarà free agent, a rimanere con la casacca dei Chicago Bulls, oppure ha dato comunque l'impressione che questa squadra più di questo non possa fare? Temo, per me, che sia la seconda, ovvero questa squadra più di questo non potrà fare. In questa Eastern Conference ipercompetitiva, in cui ci sono anche tante squadre che sono arrivate sotto ai Chicago Bulls, ma che tendenzialmente hanno un potenziale maggiore, parlo dei Brooklyn Nets, parlo degli Atlanta Hawks, e parlo in prospettiva, perché no, anche di Cleveland e Charlotte. Questi Chicago Bulls hanno la necessità, se vogliono fare il salto di qualità, di tirar dentro al posto di Vucevic, probabilmente, un lungo, se possibile, all star più difensivo, perché è stato evidente, dopo l'infortunio di Middleton, col passaggio dei Milwaukee Bucks, ha un quintetto con tre lunghi puri, Portis, Yannis e Lopez, che lì sotto, stringi stringi, non c'è nulla. Difensivamente, il buon Vucevic non è mai stato un buon difensore, Patrick Williams non ha la stazza per competere con i lunghi a livello NBA, serve un lungo fisico difensivo, ma che non ti penalizzi in attacco, come invece lo è e penalizza evidentemente Tristan Thompson, che in questa serie non ha essenzialmente mai visto il campo. I Chicago Bulls, quindi, dicono addio alla stagione, vedremo in off-season cosa farà Lavin, vedremo in off-season quali saranno le decisioni dei Chicago Bulls, temo che comunque Lonzo o non Lonzo, Caruso o non Caruso, Lavin o non Lavin, questa serie l'avrebbero comunque portata a casa i Milwaukee Bucks. Ecco, magari, con qualche infortunio in meno, i Chicago Bulls sarebbero potuti arrivare magari un gradino sopra e giocarsi il primo turno con questi non irresistibili Philadelphia 76ers, però non si vive di sé né di ma, per cui rimaniamo così. Chicago eliminata, Milwaukee passa al turno successivo di playoff, affronterà dei Boston Celtics lanciatissimi, come ho detto in precedenza, per me i favoriti sono quelli in bianco e verde. L'altra partita della notte, Golden State Warriors contro Denver Nuggets. Golden State che vince la partita, vince la serie 4-1 e, nonostante il risultato piuttosto netto per quanto riguarda il risultato finale della serie, sono state comunque tutte partite abbastanza combattute e, tenendo presente che alla fine a Denver c'è sempre e solo Jokic, l'unica partita in cui almeno un altro paio di giocatori hanno dato un contributo, ovvero gara 4 con Bons Island e soprattutto Monte Morris, i Denver Nuggets l'hanno vinta, aspettiamo di vedere il rientro di Jamal Murray e Michael Porter Jr., perché se Jokic da solo riesce comunque a rendere combattute 5 partite di una serie contro questi Milwaukee Bucks, se ci aggiungi un paio di giocatori che ti possono dare qualcosa di più in attacco, per me questa serie sarebbe stata molto più equilibrata e molto più lunga di quanto non lo sia stata questa stagione. Jokic lascia da fenomeno, ha giocato una gara 5 enorme, una gara 5 veramente d'altissimo livello, non ha sbagliato neanche una gara, neanche una partita in questa postseason e nonostante il risultato, nonostante tutto, dovessero dargli il premio di MVP sarebbe stra stra meritato. Si parla adesso del rinnovo pronto, 5 anni a 250 e passa milioni di dollari, il che vuol dire praticamente 50 milioni a stagione e Denver con questa offerta di contratto dovesse veramente proporgliela, a questo punto fa capire al mondo che Jokic, Murray, Porter Jr., questa squadra qua, con tutti i pezzi al proprio posto, Aaron Gordon, con tutti i pezzi al proprio posto, è ritenuta dalla dirigenza come una squadra potenzialmente da titolo e con cui si può puntare al titolo. Per quanto riguarda Golden State decisivo Gary Payton secondo, costante di tutta la serie, il fatto che nei momenti di equilibrio, nei momenti in cui anche sono stati sotto in doppia cifra, basta comunque mettere le marce alte dal punto di vista di Golden State per riprendere la partita, sorpassare e andare a vincerla, è un po' la forza ma anche la debolezza di questa squadra, perché non sempre e non costantemente ti dà una sensazione di solidità, di avere sempre la partita in pugno, ma quando prende la partita in pugno non ci sono cazzi che tengano. Nelle partite di questa notte, chiudendo quindi il discorso legato alle partite della notte che si sono appena concluse, si giocherà domani notte una partita che io cercherò di guardare, Toronto contro Philadelphia, perché il buon Doc Rivers è alla ricerca di un record che lo porterà per sempre nella storia dell'NBA, il primo di sempre, forse anche l'ultimo, l'unico a essere rimontato da 3-0 e a perdere una serie 4-3. Io ci credo, spero che un po' tutti voi ci crediate, compresi i tifosi di Philadelphia, perché dai, sarebbe bello entrare nella storia dalla parte sbagliata dopo aver preso quello con la barba. Insomma, sì, sarebbe bello, non mi nascondo, sarebbe bello. Giovani, finisce qua anche il resoconto del giorno, domani alle ore 14 uscirà il video sulla stagione 95-96, per la serie legata agli anni 90, per chi è sub al canale Twitch è già uscita oggi, con l'anticipo di 24 ore su tutti gli altri, e ragazzi cosa aspettate? Venite sulla piattaforma Viola a supportarmi di là per avere vantaggi, premi, giochi aggiuntivi, figate. Ragazzi, che aspettate? Aspetto. Ciao!